finalmente è finita finalmente è finita questa stagione questa disgraziata e sciagurata stagione della juventus posso finalmente tirare un sospiro di sollievo perché questa tortura è finita partiamo subito da un punto e credo che sia doveroso la juventus virtualmente questa sera chiuderebbe il suo campionato a 72 punti a pari merito con l'inter quindi virtualmente la juventus sarebbe qualificata per la prossima champions league in una stagione così sciagurata e disgraziata come stata quella di quest'anno va comunque dato merito ai ragazzi che in qualche modo hanno portato la juventus in questa posizione virtuale ora a causa della penalizzazione la juventus invece entra di diritto in conference league io credo che gran parte di noi e questa è la contraddizione della contraddizione più assoluta stia sperando almeno una parte di noi che la uefa ci punisca e ci butti fuori dalla conference league perché la conference league non è una competizione che può essere associata alla grande storia gloriosa della juventus ora voi mi direte ma prenditi la conference meglio questo che niente meglio niente meglio niente meglio niente perché a questo punto ricostruiamo bene l'anno prossimo non voglio neanche analizzare la partita di questa sera cosa c'è da dire i ragazzi sono entrati in campo hanno giocato anche discretamente hanno vinto la partita paradossalmente si è giocato anche meglio rispetto ad altre volte ma questa sera cosa cambia cosa cambia dopo aver visto tutto l'anno tutto l'anno una squadra non giocare a calcio non cambia niente la partita di questa sera va dato solo atto che questi ragazzi comunque in queste grosse difficoltà sono riusciti ad ottenere virtualmente un terzo posto in classifica i ragazzi l'hanno ottenuto i ragazzi l'hanno ottenuto questo terzo posto in classifica ora si deve ricostruire si deve ripartire con una nuova struttura non ho sentito le interviste non le voglio sentire perché sennò poi poi mi guasto tutto il discorso lo sapete poi come va a finire la juventus quest'anno conquista 72 punti in campionato ora se guardiamo la stagione dell'anno scorso la juventus sul campo conquistò 70 punti c'è stato un miglioramento di due punti questo è un miglioramento no quindi abbiamo fatto lo stesso campionato rispetto all'anno scorso quindi non mi deve venire a dire che ci sono state delle cose buone perché il miglioramento non c'è stato ripetiamolo un'altra volta siamo usciti ai gironi di champions contro il maccabi haifa non le abbiamo superati un record negativo abbiamo perso tutte le partite tranne quella di andata sempre contro il maccabi siamo usciti dalla coppa italia siamo usciti dall'europa league un rendimento scadente per tutto l'anno a parte quei 15 risultati positivi dove la squadra si era incompattata grazie a quel momento i ragazzi si sono messi d'impegno e in qualche modo hanno conquistato delle vittorie arrangiandosi perché quello non era proporre calcio in qualche modo ce l'hanno fatta ma è stata una stagione fallimentare 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 si deve cambiare ora se massimiliano allegri resterà la juventus come può essere io prometto prometto che farò il tifo come ho sempre fatto per la nostra squadra ma non verrò più trasportato da quell'entusiasmo perché me l'hanno tolto me l'hanno tolto me l'hanno tolto si deve ripartire da igor tudor o da un altro allenatore un allenatore in gamba un allenatore che faccia calcio io non riesco più a seguirla con quel trasporto non riesco non riesco se c'è quello in panchina non riesco non ti ferò mai contro non ti ferò mai contro ma una parte del mio cuore è stata strappata via strappata via john elkan io non credo che tu abbia dei problemi così grossi economici da non dover risolvere sto contratto risolvilo per favore risolvilo tu vuoi bene alla juventus risolvi quel contratto e ripartiamo con un altro allenatore ormai tutte la tifoseria la pensa così tutta la tifoseria aspetto il comunicato da domani amo la juventus amo i colori bianconeri li ho sempre amati da quando ho cinque anni voglio continuare ad amarli come prima domani ma Grazie.